Lo sappiamo, chi prende volontariamente la via del male ruba un pezzo di speranza, guadagna qualcosina ma ruba speranza a lui stesso, agli altri, alla società. La via del male è una via che sempre ruba speranza e anche la ruba alla gente onesta, lavoriosa e anche alla buona fama della città e alla sua economia. Il giudice ha detto corruzione, corruzione. Guardate bene, se noi chiudiamo la porta ai migranti, se noi togliamo il lavoro e la dignità alla gente, come si chiama questo? Si chiama corruzione. Si chiama corruzione. E noi abbiamo la possibilità di essere corrotti. Nessuno di noi può dire io mai sarò corrotto. No, è una tentazione, è un scivolare verso gli affari facili, verso la delinquenza, verso i reati, verso l'assolutamento delle persone. Quanta corruzione c'è nel mondo. È una parola che se noi la studiamo un po' è brutta, perché una cosa corrotta è una cosa sporca. Se noi troviamo lì un animale che è morto, si corrompe, è corrotto, è brutto, ma anche spuzza. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. Un cristiano che lascia entrare dentro di sé. La corruzione non è cristiano. Spuzza. Capito? Cari amici, la mia presenza vuole essere un impulso a un cammino di speranza, di rinascita e di risanamento già in corso. Conosco l'impegno generoso e fattivo della Chiesa, presente nelle sue comunità e i suoi servizi, nel vivo della realtà di scampia, come pure la continua mobilitazione di gruppi di volontari che non fanno mancare il loro aiuto. incoraggio anche la presenza e l'attivo impegno delle istituzioni cittadini, perché una comunità non può progredire senza il loro sostegno, tanto più in momenti di crisi e in presenza di situazioni sociali difficili e talvolta estremi. La buona politica è un servizio alle persone che si esercita in primo luogo a livello locale, dove il peso delle inadempienze, dei ritardi, delle vere e proprie missioni è più diretto e fa più male. La buona politica è una delle espressioni più alte della carità, del servizio e dell'amore. Fate una buona politica, ma fra voi la politica si fa una buona politica, di andare avanti con questa gioia, con questa radice, il coraggio di portare avanti la speranza, di non ruovare mai la speranza a nessuno, di andare avanti per la strada del bene, non per la strada del mare.